un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele guardate cosa abbiamo qui ma che cosa abbiamo qui il maggiolino in scala 1 a 8 prima uscita è in realtà uscito già da qualche giorno ma solo adesso ragazzi io ho potuto presentarvelo allora è in scala 1 a 8 la prima uscita costa 50 centesimi anziché 10 euro e 99 sapete che le prime uscite ovviamente le fanno pagare meno e danno un po' di più per incentivare chiaramente le persone all'acquisto allora andiamo subito a vedere cosa abbiamo nel retro di questo primo fascicolo e poi andiamo ad aprirlo qui abbiamo le varie aperture funzioni che ci permettono appunto di apprezzare di più questo modello una volta montato che andremo a vedere poi nel dettaglio adesso andiamo aprire questa prima uscita eccoci qua ragazzi adesso cercherò di darvi qualche informazione più completa ovviamente iniziando a dirvi che sono 100 uscite mi sono scritto tutto sono 100 uscite il totale della della collezione completa alla fine sarà di euro 1072,52 centesimi così suddivise la prima uscita come avete visto è di 50 centesimi se fate e andremo a vederlo dopo l'abbonamento la seconda e la terza uscita avrà un prezzo di 5,99 euro e le rispettive essendo come vi ho detto prima 97 uscite più 300 perché non 300 è 100 più 300 mi sono espresso male il totale di 100 uscite andiamo a levare la prima uscita da 50 centesimi la seconda e la terza da 5,99 ci rimangono quindi 97 uscite da 10,99 euro quindi se facciamo 10,99 per 97 e al totale andiamo ad aggiungere 5,99 più 50 centesimi ci da un totale come vi ho detto prima di 1000 euro 1072,52 euro tenete sempre presente che l'azienda si riserva sempre il diritto di poter mettere delle uscite aggiuntive a fine opera questo lo sapete che poi non siete obbligati ovviamente ad acquistare ma potrebbe accadere in tutte le collezioni può succedere questo il modello ve lo fanno ovviamente completare con le 100 uscite allora detto questo che era anche importante andiamo a vedere il modello così vi dico anche cosa ci danno come appunto come vi ho anticipato prima le funzioni e i sonori diciamo del motore del clacson allora qui abbiamo una bellissima immagine che però non è in scala 1 a 1 in quanto questa è 3 centimetri più piccola e in altezza e in lunghezza rispetto alle dimensioni reali infatti questo modellino misurato da paraurto anteriore a paraurto posteriore misura 48 centimetri qui abbiamo le misure del modello invece in scala 1 a 8 che sono superiori a quelle che avete appena visto questa è potete vedere quanto è scritto il peso è 5,5 chili non tutti lo scrivono il peso io apprezzo molto quando scrivono il peso del modello totale beh 5 chili e mezzo ragazzi non sono poco e volevo anche dirvi una cosa a me non mi paga nessuno per fare questi video ma proprio nessuno e mi ripagate voi con le iscrizioni e le visualizzazioni perché è una cosa che mi dà veramente molto ma molto piacere mi fa molto piacere e quindi di questo vi ringrazio e vi ringrazierò sempre però posso dirvi che questo è un modello in scala 1 a 8 non è una scala piccola è tra le maggiori come scala ed è vero che costa 1.072 euro molti scrivono sì però michele un modello così lo pago 300 euro dove dove se lo trovi noi lo prendiamo ok la comparativa va fatta sempre non con il modello ma con lo stesso modello e la stessa azienda allora potete avere voce in capitolo ok quindi cosa voglio dire che io non mi sarei potuto permettere nessuna parlo per me e poi andiamo avanti ma è importante dirlo questo non mi sarei potuto permettere alcuna collezione per la mia disponibilità attuale economica grazie alla possibilità mi ripeto la mia possibilità di acquistarlo a 10.99 alla settimana o facendo l'abbonamento 48 euro e qualcosa al mese noi possiamo almeno io posso permettermi di farlo onestamente lo farei così come avrei fatto anche il Landini il trattore dell'Hachette anche questo è Hachette ma mi dovrei sempre ripetere per un fatto di soldi ragazzi e quindi ecco mi piacerebbe davvero farlo ho visto delle cose carine che adesso andremo a vedere ma ho voluto fare questa premessa proprio per dirvi che comunque sono belli i modelli non è che stiamo acquistando delle cose così da come vi posso dire da busta sorpresa scusatemi ragazzi per la premessa ma ci tenevo poi per carità ognuno dei suoi soldi decide fa quello che vuole però bisogna prendere in esame tutto non soltanto il prezzo finale allora andiamo a vedere cosa ci danno come funzioni le luci anteriori sono funzionanti i finestrini si alzano e si abbassano grazie alla manovella lo sterzo è funzionante le sospensioni sono a molla abbiamo gli effetti sonori di motore clacson i fari posteriori e luci di stop funzionanti e il quadro strumenti retroilluminato il modello è una sorprendente replica dell'auto originale realizzata in metallo pressofuso e materiali plastici di qualità un modello in grado di entusiasmare i modellisti i collezionisti e gli appassionati del marchio volkswagen e del leggendario maggiolino allora io guardavo il particolare qui delle cerniere che è bellissimo bellissimo e poi mi piace molto l'accoppiamento che vedo qui non so spiegarvi cioè non si vede un taglionetto ma si vede una cosa tipo una direi una bisellatura ma non tutti conoscono questo termine cioè estondato proprio come quella vera secondo me è un bellissimo modello e come vi ripeto uno dice michele ma sei così bello perché non lo fai ragazzi non ho i soldi non ce la faccio non ce la faccio farei salti mortali non lo so ma al 99,9 non ce la faccio a farlo quindi io per quello che ho appena visto e andremo a vedere vi consiglio di farlo se vi piace allora andiamo subito a vedere una cosa adesso parliamo del pagamento se sottoscriverete l'abbonamento con pagamento con carta di credito attenzione con carta di credito in più oltre a tutti gli altri regali che avrete se non farete l'abbonamento con carta di credito vi daranno dove la targhetta in metallo qui non c'è andiamo a vedere dove l'abbiamo lasciata eccola qua avete presente quando vi preparate sempre le cose e poi non le trovate allora per chi appunto sottoscriverà l'abbonamento con pagamento carta di credito non solo non pagherà i 2,90 euro parliamo di quello online ragazzi abbonamento online noi dicolo ovviamente non solo non pagherà i 2,90 euro ad ogni consegna perché la consegna sarà gratuita ma avrà in più oltre ai premi che andiamo a vedere dopo una metal una insegna metallica personalizzata maggiolino Volkswagen materiale metallo le dimensioni sono 30 centimetri per 40 centimetri ok questa vi arriverà se farete il pagamento con carta di credito con il primo invio e insieme sempre al primo invio vi verranno dati altri due regali il portachiavi apri bottiglie del maggiolino materiale zinco alluminio nichelato smaltato le dimensioni sono 4 centimetri per 10 centimetri per 3 millimetri lo spessore ovviamente e in più sempre con il primo invio avrete il quaderno colorato con calendario del maggiolino composto da 192 pagine il materiale carta e cartone le dimensioni sono in a 5 14,8 centimetri per 21 centimetri con il secondo invio vi verranno anche messi insieme agli articoli ai ai componenti chiaramente del modello la tazza termica personalizzata Volkswagen attenzione però qua ne vedete due ma vedete un retro vedete quindi vi dice la tazza termica non le tazze quindi vi ne arriva una vi hanno fatto vedere la foto di due perché questo è il davanti e questo è il dietro qua c'è scritto Volkswagen e qui il simbolo chiaramente dell'azienda il materiale è in acciaio inossidabile e le dimensioni sono 18 centimetri di altezza per 8 centimetri la parte superiore di larghezza e la capienza è 400 ml con il quarto invio quindi non con il terzo ma nel quarto invio vi arriverà il modellino del maggiolino del 1960 in scala 1 a 24 il materiale è plastica e metallo le dimensioni saranno di 17 centimetri per 6,4 centimetri per 6,3 centimetri penso di aver detto tutto cosa vi consiglio allora parlavo degli abbonamenti l'online quindi carta di credito piuttosto che edicola allora non me ne vogliano gli edicolanti ma penso che sotto una certa chiave di lettura mi capiranno anche loro io vi consiglio di fare l'abbonamento con pagamento carta di credito perché tenete presente ragazzi tenete presente che in una collezione composta da almeno 100 numeri non saranno pochi i numeri che purtroppo arriveranno difettati questi pezzi difettati se avete fatto l'abbonamento online con pagamento carta di credito perché sottostivo sempre pagamento carta di credito perché non pagate le spese di consegna di 2 euro e 90 ragazzi e per 97 numeri fate 3 euro facciamo 3 euro per 97 beh ragazzi fanno 290 euro in più che pagherete in questa collezione quindi non so se vi conviene per quello vi dicevo fate l'abbonamento con pagamento carta di credito non pagate nulla vi arriva un pezzo difettato benissimo per modo di dire fate la foto del pezzo difettato almeno due foto perché bisogna farlo vedere il difetto ovviamente specificate il numero del fascicolo lo so ragazzi sto parlando adesso di mi sto dilungando un po' ma preferisco dare tutte le informazioni queste informazioni valgono su tutte le collezioni ok allora stavo dicendo scrivete il numero del fascicolo e chiaramente mandate un'email al numero dedicato all'indirizzo dedicato per chiaramente le sostituzioni del pezzo il pezzo vi verrà sostituito perché vi risponderanno entro due giorni se non prima addirittura un giorno a me molte volte vi verrà riconsegnato un altro pezzo quello che avete appunto riordinato non pagherete niente vi arriverà la fattura con zero e voi avrete il pezzo anche a casa quello che avete trovato il difetto su cui avete trovato il difetto parliamo dell'edicola ma non perché colpa dell'edicolante attenzione ma funziona così voi potete avere anche l'amico più caro in edicola ma quando in una collezione vi possono capitare e succede ragazzi 10 15 pezzi fallati succede ve lo garantisco succede ok quante volte pensate di poter andare dall'edicolante a dire questo pezzo non va avete presente di cosa deve fare l'edicolante per quel poco che guadagna perché veramente guadagnano poco su questo ragazzi fanno un favore quasi per avere clientela di altre cose ma avete presente me lo sostituisci una volta va bene però il pezzo dovete portarglielo indietro e loro devono fare tutto quello che è il carteggio per poi spedirlo e attendere che ritorni quindi il pezzo non l'avete più quindi ragazzi cosa vi consiglio sicuramente l'abbonamento con pagamento carta di credito vi prendete una prepagata e la caricate man mano una cosa importante ho letto che sono tre invi così c'è scritto ragazzi e così vi dico tre invi al mese ecco qua la consegna avverrà entro 45 giorni dalla registrazione del tuo ordine 45 giorni ovviamente è il tempo limite oltre il quale dovete contattare per dire non mi è arrivato però vi può arrivare anche in 30 giorni poi c'è scritto in seguito riceverò ogni mese circa tre uscite allora di solito sono quattro uscite al mese quattro però qua dicono tre e io ve lo dico ok ragazzi quello che invece non ho visto e in che per chi sottoscrive l'abbonamento online con pagamento carta di credito e forse anche non pagamento carta di credito ma non sono sicuro sono i due raccoglitori che vi vengono forniti gratuitamente diversamente se fate questo tipo di abbonamento voi riceverete due raccoglitori per i fascicoli al costo di 7 euro ciascuno che diventano 14 euro da sommare ok ragazzi quindi ecco questo è l'unico appunto che volevo anche farvi perché di solito c'è scritto raccoglitori omaggio io credo è ma ovviamente credo che per chi fa l'abbonamento online con pagamento carta di credito i raccoglitori ve li danno almeno nelle collezioni che ho fatto io me li hanno sempre regalati per cui ecco però io ve lo dovevo dire andiamo adesso a prendere finalmente però era giusto dirvelo andiamo a vedere adesso il montaggio del primo numero di questo splendido modello tra l'altro è ovviamente vista la serietà prodotto su licenza ufficiale volkswagen il cofono anteriore è molto pesante metallo adesso andiamo a vedere il grado di finiture mamma allora ragazzi fatemela soltanto guardare meglio è fatemela solo guardare meglio sono veramente veramente meravigliato e pazzesca questa finitura sembra un pastello non è neanche la vernice sapete lucida è un pastello bellissimo ragazzi è bellissimo ma credetemi eh credetemi non pensavo una finitura così ne ho visti tanti di modelli lucidi ma questo è meraviglioso sembra la vernice vera della macchina ragazzi non lo so cercherò di fare i salti mortali ma sarà difficile che riesca a farlo ma è bellissimo bellissimo andiamo a vedere cos'è contenuto allora ah prima di andare a vedere cos'è contenuto una piccola curiosità guardiamo il peso di questo cofono anteriore sapete che Michele ama fare queste cose e magari mentre le fa Michele iscrivetevi al canale e attivate la campanella così rimanete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video ragazzi grazie di tutto davvero andiamo a pesarlo guardate 216 grammi 217 grammi che per i nostri amici americani inglesi questo è il peso ecco qua ragazzi andiamo a togliere questo mamma mia è bellissimo non pensavo veramente non pensavo comunque abbiamo il cofono anteriore ovviamente come appena visto allora abbiamo due stemmi uno della Volkswagen no ma ha una finitura ineccepibile la cromatura è fatta benissimo non ci sono non ci sono assolutamente errori dove stavo mettendo le lo stemma guardate guardate come è intagliato dentro intagliato chiaramente uno stampo ma guardate le righe sono perfette è bellissimo ragazzi poi abbiamo lo stemma di non me ne vogliono i tedeschi io non so pronunciare e non so parlare il tedesco Wolfsburg scusatemi guardate che cosa non è anche questo stemma bellissimo e ragazzi sto ripetendo tante volte bellissimo ma è magnifico stupendo vi dico veramente sono rimasto a bocca aperta perché sono veramente belli questi particolari e fatti bene poi abbiamo la staffa della maniglia in plastica abbiamo il profilo cromato guardiamo questo partiamo dal fatto che costa solo 50 centesimi sto pezzo infatti ho preso un'altra uscita però vedete questo per esempio perché bisogna dire la verità ha un difetto guardate lo potete vedere anche da voi qua e qua però costa 50 centesimi questo può succedere perché è la cromatura sulla plastica che si è staccata sotto un po è o è stato piegato un po questo pezzo ma non si direbbe vabbè andiamo avanti poi abbiamo la maniglia la maniglia è fatta bene veramente bene anche questa e poi guardate qua che novità almeno per me lo è ci sono nove seger invece di avere le viti per bloccare tutti i pezzi che abbiamo appena visto abbiamo dei seger andiamo adesso a vedere quanti ce ne servono sicuramente ce ne avranno dato almeno uno in più allora andiamo a staccare il primo basta andare avanti indietro così vedete si staccano subito andiamo a staccarne almeno vediamo qui ce ne servono uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci possibile ne ho contati solo nove uno due tre quattro cinque sei e tre nove bene stacchiamo le nove poi vediamo sicuramente ho sbagliato io a contarli o più semplicemente un pezzo viene tenuto sotto insieme a un altro pezzo ecco vedete vi faccio vedere un'altra cosa guardate quello che mi piace non hanno usato la plastica azzurra ma l'hanno questo è un pezzo nero e lo hanno verniciato ovviamente dello stesso colore e questa è una cosa che mi piace tanto perché c'è la vernice non è la plastica allora andiamo a fare la prima cosa ci dicono di mettere lo stemma volkswagen così le istruzioni sono più che chiare ok ecco qui non serve il seger a incastro ecco perché ce ne erano in più che ne ho contati in più questi due non sono da contare perfetto e questo l'abbiamo messo poi andiamo a mettere la maniglia eccola qui la maniglia che va posizionata qui abbiamo una specie di bordino qui invece liscio il bordino va messo verso la parte bassa del cofano in questa maniera così lo giriamo e andiamo a mettere questo con questa punta rivolta verso la parte superiore del cofano così ecco qua perfetto andiamo a mettere questi due seger e vediamo un po come ci troviamo non ho mai fatto un montaggio così io ragazzi con questi particolari vediamo se è una cosa che è valida come idea sì bisogna vedere se sotto riesce però a prenderli allora mettiamo il primo certo voi aiutatevi con un cacciavite qualcosa ragazzi io vedo se riesco a fare danno così allora qui provo un'altra volta altrimenti perché mi viene difficile inquadrare e fare il lavoro esco fuori dall'inquadratura e non mi va vediamo un po se ce la facciamo così con questo stesso pezzo di plastica così non roviniamo la vernice ecco qua il primo è entrato correttamente fate solo attenzione perché ovviamente dovete superare il punto più sottile della cromatura se non esce fuori dal pezzo è inutile che cercate di mettere il seger perché non ce la farete mai rischiate solo di romperlo quindi quando fate mettete prima il primo qua dietro e poi mettete il secondo qua davanti vedete che è più alto dovete tenerlo premuto sia da qua col pollice che dietro nella maniglia e provare a mettere il secondo andiamo a vedere dovete farle fare una flessione al centro cioè premere proprio ragazzi e andate a vedere dov'è più libero e non è che prende tanto e dico la verità non so se riesco a mettere questo non ho tanto spazio vediamo se ce la facciamo vediamo ragazzi se no altrimenti metto la pausa mi sarebbe piaciuto farvelo vedere in diretta ma in diretta video ma ho paura che non ce la facciamo vediamo no metto la pausa perché lavoro male ragazzi non ce la faccio a farlo così no ragazzi ragazzi stavo sbagliando è il bello che ci sono anche le istruzioni chissà quanti di voi se ne sono accorti ragazzi no no assolutamente vedete ho messo al contrario questo ma Michele è proprio proprio andato col cervello vedete questa punta è il bello che l'ho anche detto va dal davanti e io l'ho messa dalla parte dietro questa specie di filetto qui va messo da quest'altra parte ecco perché facevo fatica meno male ad attaccare l'altro seger quindi andiamo a togliere questo così ecco qua e giriamo questo mi sembrava strano diciamo ma perché non entra cominciamo male è certo che abbiamo iniziato male ho iniziato male io ecco sì così sì così è perfetto può darsi che non ce la faccia lo stesso a montarlo guardando attraverso il telefonino però ecco è così che va montato voi l'avevate sicuramente capito è Michele che c'è la testa sulle nuvole ok sto cercando di contrastare mentre spingo anche il perno cromato non vorrei che si rompesse quindi guardate cosa faccio io poi magari non serve ma io lo faccio metto il pezzo di plastica quello che abbiamo staccato dai seger contro la cromatura il perno e con il pollice con l'unghia spingo ecco qua vedete perfetto uno è andato facciamo la stessa cosa dall'altra parte mamma mia ragazzi il bello che guardate ragazzi va messo con la punta dal davanti e lo metto dietro non diciamo le parolacce ecco qua ragazzi metto in pausa perché insomma è chiarissimo lo è più chiaro a voi sicuramente che a me metto in pausa se no qui veramente arriviamo a stasera ecco fatto ragazzi ed è molto più semplice montarlo con tranquillità senza guardare attraverso il telefonino a questo punto abbiamo messo il pezzo correttamente finalmente andiamo a mettere questo così lasciando libero il buco sopra come spiegato nell'istruzione e andiamo a mettere altri due seger qua sotto sicuramente c'è da lavorare un po' di di più per fare questo tipo di operazione però non mettiamo le viti e non è male guardate ecco poi lo centrate un po' perché avete un po' di gioco vi faccio vedere c'è anche se ci sono i seger vedete che si muove un po' voi lo centrate siete a posto a questo punto andiamo a mettere questo questo che è il profilo cromato ok non vi potete sbagliare perché così è impossibile metterlo manca il buco quindi solo così fate solo attenzione perché in plastica non è metallo quindi ecco non fate troppe flessioni al centro qui è entrato però forse è meglio farlo entrare da qui si ragazzi non fate entrare da sopra anche perché se lo fate vi accorgerete che fate più fatica a far combaciare questo ultimo foro ma fate così dal davanti pressate solo esclusivamente dove ci sono sotto i perni forte questo ecco guardate non lo sapevo io non conosco molto bene questo modello ma è bellissimo qua ho fatto una parte sottilissima dello stemma dove il profilo cromato va in battuta sopra bellissimo adesso andiamo a mettere gli ultimi seger qua sotto ne metto solo uno ragazzi poi metto pausa dal video tanto gli altri si mettono tutti allo stesso modo ok eccoci nuovo qua ragazzi una sola cosa questo seger qua mettetelo dal davanti verso questa parte qui perché negli altri sensi fate molto fatica qua è più scavato almeno almeno il mio quindi lo fate entrare non diritto ma di punta lo fate infilare sotto e poi lo spingete stessa cosa di qua non mi entrava da nessun lato fuorché da qui e l'unico modo per farlo entrare è stato prendere questo guardate non spingerlo così ma alzarlo dietro per farlo entrare di punta spero di essere stato chiaro ne abbiamo uno in più perfetto non se ne è rotto nemmeno uno guardate vi garantisco ragazzi che nel video non riesco a farvi vedere la bellezza di questa finitura non c'è un difetto o sono stato fortunato ma proprio la finitura il pastello meraviglioso bene ragazzi io credo di avervi detto tutto scusate per la durata del video però qui non si tratta di aver fatto solo il montaggio ma ho voluto darvi tutte le informazioni possibili senza spero aver trascurato nulla così non mi piace questa questa immagine non riesco mai a fare niente di decente mannaggia ok ma così va bene va bene ragazzi adesso questo video è terminato ma consentirò a chi lo desidera di poter leggere all'interno del fascicolo tutto ciò che è scritto ok ragazzi se voi non siete interessati per voi appunto come vi ho detto il video termina qui mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale non dimenticate di iscrivervi al mio canale e come ho detto prima di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video a voi che avete deciso deciderete di andare via in questo momento io vi ringrazio del vostro tempo abbraccio voi e tutti i vostri cari più cari ciao da Michele al prossimo video adesso passiamo a far vedere il contenuto del fascicolo eccoci qua ragazzi benvenuti a questa seconda parte del video iniziamo a farvi vedere cosa è contenuto appunto all'interno del fascicolo come testi e scrittura dovrò tenere necessariamente il telefonino con la mano per consentirvi di poter leggere meglio tutto ciò che è scritto questa è la prima pagina dei servizi numeri utili e adesso vi auguro una buona lettura e adesso vi auguro una buona lettura ok 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 Grazie. Lo so ragazzi, non c'è musica, non c'è nulla, però qui siamo in biblioteca, bisogna fare silenzio assoluto. La realtà è ben più triste, non sono in grado di mettere musiche o fare video editing o mettere icone personalizzate durante i miei video. Abbiate pazienza. Questa è una cosa fondamentale da leggervi per gli amanti proprio di questo marchio. Questo nome importantissimo, fondamentale per la ripresa. Cerco di inquadrare meglio questo trafiletto piccolo. Questo è il maggiore Ivan Hirsch. Chi ama questa macchina, anche nella sua storicità, non può fare a meno di conoscere appunto la storia di tutto quello che concerne l'azienda, quindi il marchio e le vicissitudini di questa azienda. Abbiamo finito ragazzi. Però sono cose molto interessanti. Io le definisco ciliegine sulla torta. Il modello è bello, acquistiamo il modello e questo che ci viene dato è una cosa in più. Non abbiamo le semplici istruzioni e basta. Abbiamo la storicità del modello, la sua evoluzione, la nascita del modello ancora prima ovviamente. E queste sono le parti che abbiamo appena montato, contenute nel primo fascicolo. Ecco qui ragazzi, abbiamo finito. Voilà. Eccoci qua ragazzi. Ovviamente il modello è un'edizione Ashet. Grazie, grazie del vostro tempo, grazie ragazzi. Cosa dirvi? Secondo me è un modello da fare, è un modello da fare. E io non so se riuscirò, ve l'ho già detto, non vi voglio ripetere sempre le stesse cose. Lo farei, se solo potessi lo farei. Un abbraccio anche a voi che siete rimasti con me fino alla fine. Spero di non fare un monologo, di non essere solo. Me ne basta anche solo uno che abbia avuto il piacere di guardare questa seconda parte e capirne l'importanza. Come vi ho detto prima, la ciliegina sulla torta fornita da questi importantissimi fascicoli che completano in toto questa meravigliosa collezione dell'Ashette in scala 1 a 8. Un abbraccio ragazzi ancora a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele. Arrivederci al prossimo video.